La parola innovazione rientra nel DNA di Zeiss per definizione, per quella che è la sua storia, per quello che è stato lo sviluppo tecnologico legato a questa azienda. Però all'interno del mondo delle lenti da sole, innovazione è anche rispondere alle esigenze dei clienti. Il team di innovazione prodotto non solo sviluppa internamente nuove idee, nuovi concetti, ma si pone anche come trade union tra il mondo esterno, le tecnologie esistenti e quelle che sono le richieste dei clienti e gli input che vengono elaborati al suo interno. Per me l'innovazione è realizzare qualcosa che non era mai stato fatto prima, sia in termini di prodotto che di manufacturing, per arrivare ad offrire ai nostri clienti nuove opportunità di successo, così come anche ai consumatori finali. L'Industry 4.0 certamente ha la traccia da seguire per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi produttivi, riducendo quindi l'eat time di produzione per la consegna delle lenti e il time to market nello sviluppo dei nuovi prodotti. Facendo questo riusciremo ad offrire il servizio massimo che i nostri clienti si aspettano giustamente da Zeiss. Grazie. Grazie. Grazie.